Capitolo trentesimo Festa in onore di Nicola, che si ritirò improvvisamente dalla compagnia del signor Vincenzo Cramols e degli attori suoi colleghi. Il signor Vincenzo Cramols, saputa appena la notizia datagli da Nicola riguardo alla probabilità di cessar fra breve di far parte della compagnia, mostrò molti segni di dispiacere e disconcerto e al colmo della disperazione affacciò certe vaghe promesse di un pronto aumento non solo della paga convenuta, ma anche degli eventuali diritti d'autore. Trovando Nicola risoluto a lasciarla compagnia, perché questi aveva già deliberato, anche se non avesse avuto altre notizie da Newman, di cercare di calmare a ogni modo la propria inquietudine col correre a Londra e accertarsi dell'esatta condizione della sorella, Il signor Cramols si trovò ridotto ad accontentarsi di credere alla probabilità del ritorno di Nicola e a prendere delle pronte ed energiche misure per cavare da lui tutto quello che ne poteva cavare prima della sua partenza. Vediamo un po', disse il signor Cramols togliendosi la parrucca da bandito per considerare con una certa freddezza di testa la questione. Vediamo un po', stasera è mercoledì, la prima cosa da fare domani mattina è di annunciare la vostra ultima recita per domani. Ma voi sapete che forse non sarà la mia ultima recita, disse Nicola, se non fossi chiamato mi dispiacerebbe disturbarvi lasciandovi prima della fine della settimana. Tanto meglio, ribatté il signor Cramols, possiamo avere effettivamente la vostra ultima recita a giovedì e poi vi potremo scritturare di nuovo per una sola serata, venerdì, e quindi cedendo alle pressioni di numerosi autorevoli spettatori, che venerdì non avranno potuto trovare posto, sabato, e così potremo fare tre pienoni. Allora, debbo recitare altre tre volte, debbo? chiese Nicola con un sorriso. Sì, soggiunse il direttore grattandosi il capo con aria alquanto seccata. Tre recite non sono molte e non è già nelle consuetudini non tenerne di più, ma se non si può, non si può, ed è inutile parlarne. Una novità andrebbe bene a proposito, non potreste cantare una canzonetta comica stando a cavallo? Che ne dite? No, rispose Nicola, veramente non potrei. Altre volte si sono fatti così dei bei denari, disse il signor Cramols con uno sguardo deluso, e che direste di un magnifico fuoco d'artificio? Sarebbe piuttosto dispendioso, rispose Nicola secco. Con una quarantina di soldi si avrebbe, disse il signor Cramols. Voi alto su due gradini col prodigio in bell'atteggiamento, addio su un trasparente dietro, e nove persone ai due lati con un razzo in ciascuna mano, tutti i diciotto razzi che si accendono nello stesso istante, sarebbe magnifico, un meraviglioso spettacolo dalla platea, assolutamente meraviglioso. Siccome Nicola non ebbe alcuna sensazione di quella fantastica magnificenza, ma al contrario accolse la proposta molto irriverentemente, scoppiando in una gran risata, il signor Cramols abbandonò l'idea in germe, e osservò malinconicamente che dovevano comporre il più bel cartellone possibile con duelli e canzoni scozzesi, e limitarsi al dramma tradizionale. Con lo scopo di eseguire immediatamente il progetto, l'impresario si rifugiò in un camerino adiacente, dove la signora Cramols era in quell'istante occupata a mutare le spoglie di una imperatrice del melodramma con quelle di una comune matrona del secolo XIX. E con l'aiuto di lei e della compita signora Graven, che era assolutamente un genio per i cartelloni, già che vi profondeva dei gran punti esclamativi, e sapeva per lunga esperienza dove si dovevano far campeggiare le più grosse maiuscole, egli si applicò gravemente alla composizione del manifesto. «Auf!» sospirò Nicola abbandonandosi nella poltrona del suggeritore, dopo aver telegrafato le necessarie istruzioni a Smike, che aveva rappresentato nell'intermezzo un sarto sparuto con una sola falda all'abito e un fazzolettino con un gran buco, un berretto da notte di lana, il naso rosso e tutti gli altri segni particolari dei sarti sul palcoscenico. «Off!» desidererei che tutto fosse finito. «Finito, signor Johnson?» ripetì una voce femminile dietro di lui, in una specie di sorpresa lamentosa. «La mia è stata certa un'esclamazione poco cortese», disse Nicola levando lo sguardo per vedere chi parlava e riconoscendo la signorina Snevellicci. «Non l'avrei fatta se avessi saputo chi mi stava a sentire». «Com'è caro il signor Digby?» disse la signorina Snevellicci mentre il sarto se ne andava dal lato opposto alla fine del lavoro fra grandi applausi. Il nome teatrale di Smike era Digby. «Gli dirò subito che cosa avete detto per fargli piacere», rispose Nicola. «Ah, cattivo che siete!» soggiunse la signorina Snevellicci. «Non credo però che mi importi molto che gli sappia la mia opinione su di lui. Per qualche altra persona, veramente, potrebbe essere». A questo punto la signorina Snevellicci tacque come se attendesse ad essere interrogata, ma non venne alcuna domanda, perché Nicola pensava a cose più gravi. «Come siete gentile», riprese la signorina Snevellicci dopo un po' di silenzio, «a star qui ad aspettarlo tutte le sere, tutte le sante sere, stanco come siete, e a prendervi tanta cura di lui con una gioia e un'amorevolezza che non avreste, se steste invece a contar sterline». «Egli si merita tutte le gentilezze che posso fargli e molto di più», disse Nicola. «È il ragazzo più grato, più sincero, più affezionato che ci sia al mondo». «Così buffo anche», osservò la signorina Snevellicci. «Vero?» «Che il Dio benedica lui e quelli che lo hanno ridotto così». «Sì, veramente», soggiunse Nicola scuotendo il capo. «È così chiuso e segreto», disse il signor Foller che era apparso qualche momento prima e si era intromesso nella conversazione. «Nessuno riesce mai a cavargli nulla di bocca». «Che cosa gli si dovrebbe cavare?» chiese Nicola volgendosi con qualche durezza. «Zitto! Come pigliate fuoco subito, Johnson?» rispose il signor Foller raddrizzando il tacco dello scarpino d'abballo. «Parlavo della naturale curiosità dei nostri colleghi qui, che desiderano sapere che cosa facesse prima di trovarsi con noi». «Poverino, è abbastanza evidente, credo, che egli non potesse far nulla di molto importante per loro o per altri», disse Nicola. «Sì», disse l'attore contemplando l'effetto della sua truccatura nel riflettore d'un lume. «Ma sapete che questo involge tutta la questione». «Quale questione?» chiese Nicola. «Ebbene, chi egli sia e che cosa sia? E come mai voi due, che siete così diversi, siate diventati compagni inseparabili?» rispose il signor Foller, incantato dell'occasione di dire qualcosa di spiacevole. «Lo dicono tutti». «Tutti quelli del teatro, immagino», disse Nicola sprezzante. «Tutti quelli del teatro e tutti quelli di fuori», rispose l'attore. «Gia lo sapete, Elenville dice. «Credevo veramente d'averlo fatto tacere una volta per sempre». interruppe Nicola diventando di fuoco. «Forse lo avete fatto tacere», soggiunse senza interrompersi il signor Foller. «Ma se lo avete fatto tacere, egli lo diceva già prima, Elenville dice che voi siete un attore regolare e che è soltanto il mistero che vi circonda che vi ha indotto a scritturarvi con la nostra compagnia. Crammels lo sa il segreto e se lo tiene per sé, per sfruttarvi, benché Elenville aggiunga che non ci sia un granché e che voi vi dovete essere trovato in qualche faccenda scabrosa ed essere scappato da qualche parte per sottrarvi a chissà mai che cosa». «Ah», disse Nicola con un sorriso stentato, «questa è una parte di ciò che egli dice», aggiunse il signor Foller. «Io lo dico come amico di tutti e due e in gran confidenza. Non sono d'accordo con lui, però. Egli dice di credere che Digby sia più un briccone che un imbecille e il vecchio Fluggers, che come sapete fa i servizi grossolani, racconta che quando faceva il fattorino in Covent Garden nella penultima stagione, c'era un borsaiuolo che si aggirava intorno al posteggio delle vetture con la fisionomia precisa di Digby. Però, come egli precisamente dice, forse non era Digby, ma suo fratello o qualche suo parente prossimo». «Ah», esclamò di nuovo Nicola. «Sì», disse il signor Foller imperturbabile, «questo è ciò che si dice. Ho pensato di riferirvelo, perché è bene che lo sappiate». «Ah, ecco qui finalmente quel maledetto prodigio! Oh, che pietra sullo stomaco! Vorrei...» «Pronto, mia cara!» «Cataplasma!» «Sonate, signora Graden, e che la loro prediletta li tenga ad esti!» Pronunziando ad alta voce quelle frasi che suonavano complimentose per l'inconsapevole prodigio e dicendo le altre in tono confidenziale a Nicola, il signor Foller seguì con gli occhi il sipario che si levava, assistè con un sogghigno all'accoglienza da parte del pubblico della signorina Cramols in veste di vergine selvaggia e, ritraendosi di un paio di passi per avanzare con maggiore effetto, cacciò un urlo preliminare e balzò innanzi, digrignando i denti col tomahawk di latta in mano in persona del selvaggio indiano. «Così, codeste sono alcune delle storie che si inventano intorno a noi e che si diffondono di bocca in bocca», pensò Nicola. «Se un uomo commette un gran delitto in qualunque società, grande o piccola, badi a non riuscire, gli perdoneranno il delitto, ma non il successo». «Voi certo, signor Johnson, non badate a ciò che dice quel maligno», osservò la signorina Snevellicci nel tono più seducente. «Io no», rispose Nicola. «Se dovessi rimanere qui, potrei farne qualche conto, ma come stanno ora le cose, si sfiatino pure a sparlare». «Ecco qui», aggiunse Nicola mentre si avvicinava a Smaic, «ecco qui l'argomento di una parte della loro bontà. Così lui e io vi diremo buonasera insieme». «No, io non permetterò né a lui né a voi di dir nulla di simile», rispose la signorina Snevellicci. «Voi dovete venire a casa mia a vedere la mamma che è arrivata oggi a Postmouth e arte dalla voglia di conoscervi. Cara Ledruck, persuadete il signor Johnson». «Ah sì», rispose la signorina Ledruck con notevole vivacità. «Se non potete persuaderlo voi!» La signorina Ledruck non disse altro, ma fece comprendere con un abile gioco di fisionomia che, se la signorina Snevellicci non poteva, nessuno avrebbe potuto. «Il signore e la signora Liliwick sono venuti ad abitare in casa nostra e per ora usano lo stesso nostro salotto», disse la signorina Snevellicci. «Questo non vi alletta?» «Seate certa», rispose Nicola, «che per me non ci potrebbe essere un'attrattiva più forte del vostro invito». «Non credo veramente», soggiunse la signorina Snevellicci e la signorina Ledruck disse «Sì, proprio». Al che la signorina Snevellicci disse che la signorina Ledruck era una visionaria e la signorina Ledruck disse che non serviva che la signorina Snevellicci si facesse così rossa e la signorina Snevellicci picchiò la signorina Ledruck e la signorina Ledruck picchiò la signorina Snevellicci. «Su!» disse la signorina Ledruck. «È tempo d'andarcene. Se no, la povera signora Snevellicci penserà che voi, signor Johnson, siate fuggito con la figlia e allora noi avremmo un bel da fare». «Mia cara Ledruck!» protestò la signorina Snevellicci. «Cosa ti viene in mente?» La signorina Ledruck non rispose, ma prendendo a braccetto Smyke lasciò che l'amica e Nicola li seguissero a loro agio. Ma essi li seguirono subito, o meglio piacque a Nicola di seguirli subito, perché egli, in quel momento, aveva altro per il capo. Quando furono in strada non mancò materia alla conversazione, poiché si vide che la signorina Snevellicci aveva un panierino da portare a casa e la signorina Ledruck una cassettina e che il panierino e la cassettina contenevano quegli oggettini per l'acconciatura teatrale che le attrici sono solite di portarsi innanzi e indietro. Nicola insistè per portare il panierino e la signorina Snevellicci insistè per portarselo da sé. E questo diede origine a una lotta nella quale Nicola catturò il panierino insieme con la cassettina. Allora Nicola disse che aveva la curiosità di sapere che cosa mai contenesse il panierino e fece l'atto di sollevare il coperchio e di darvi un'occhiata. Ma la signorina Snevellicci si mise a strillare dichiarando che semmai egli avesse veduto lei certo sarebbe svenuta. Questa dichiarazione fu seguita da un tentativo simile sulla cassettina e da una simile protesta da parte della signorina Ledruc. E allora le due donne minacciarono di non dare un altro passo se Nicola non avesse promesso che non si sarebbe attentato di guardare di nuovo. Infine Nicola si obbligò a non permettersi di soddisfare la curiosità che lo pungeva e continuarono a camminare. Le due donne ridendo molto e dicendo che in vita loro mai e poi mai avevano visto un birbante di quella forza. Alleggerendo il cammino con queste piacevolezze arrivarono presto alla casa del Sarto dove subito formarono una bella brigata perché vi trovarono non soltanto il signor Liliwik e la signora Liliwik non soltanto la mamma della signorina Snevellicci ma anche il papà. E lui, il papà della signorina Snevellicci era veramente un bell'uomo dal naso a uncino dalla fronte bianca dai capelli neri e ricci e gli zigomi alti ed ha la faccia tanto simpatica soltanto sparsa ad un po' di pustole forse per il troppo bere. Aveva un ampio torace il papà della signorina Snevellicci e portava una frusta giacca turchina tutta adornata di bottoni dorati. Egli non aveva visto ancora entrare Nicola che si era subito ficcato l'indice il medio della destra fra i bottoni centrali sul petto e piantando l'altra mano ricurva sull'anca sembrava dicesse eccomi, son qui mio bel damerino se hai qualcosa da dirmi. Tale era e in tale atteggiamento apparve seduto il papà della signora Snevellicci che era stato artista da quando a dieci anni aveva rappresentato la prima volta il diavoletto nelle pantomime di Natale. Egli sapeva cantare un poco danzare un poco battersi a scherma un poco rappresentare un poco e far di tutto un poco ma non molto. Talvolta aveva preso parte al ballo talvolta al coro in tutti i teatri in Londra ed era sempre stato scelto in virtù della persona che figurava così bene gli ufficiali in visita e gli aristocratici che non parlano. Portava sempre un vestito elegante e si presentava a braccetto di una signora elegante con le gonne corte e sempre con tal aria che parecchie volte si sapeva gli spettatori della platea gli avevano gridato bravo con l'impressione che fosse qualcuno. Questo era il papà della signorina Snevellicci al quale qualche invidioso gettava l'accusa di picchiare di tanto in tanto la mamma della signorina Snevellicci la quale faceva ancora la ballerina ed era piccina e aveva qualche resto di bellezza e in quel momento sedeva appunto come danzava già che era un po' troppo vecchia per l'accecante chiarore della ribalta nello sfondo. A questa brava gente Nicola fu presentato con molte cerimonie. Finita la presentazione il papà della signorina Snevellicci il quale pulsava di rum disse di essere incantato di fare la conoscenza di una persona di così alto merito e notò inoltre che un trionfo simile non si era avuto no non si era avuto dalla prima comparsa sul palcoscenico del suo amico signor Glavor Melli nel teatro di Coburgo. Voi lo avete visto signore disse il papà della signorina Snevellicci no in realtà non l'ho visto mai non avete visto mai signore il mio amico Glavor Melli disse il papà della signorina Snevellicci allora ancora non avete visto recitare se fosse vissuto ah è morto dunque interruppe Nicola sì disse il signor Snevellicci ma non è nell'abbazia di Westminster ed è una vergogna egli era un bene lasciamo andare egli ha fatto quel viaggio dal quale nessuno ritorna più ma auguro che Colà sia apprezzato quanto merita dicendo così il papà della signorina Snevellicci si stropicciò la punta del naso con un fazzoletto di seta molto giallo per far intendere ai presenti che quelle rimembranze lo affannavano molto bene signor Liliwick disse Nicola come state? benissimo caro rispose il riscossore non c'è nulla di meglio dello stato coniugale caro siatene certo veramente? disse ridendo Nicola nulla di meglio caro rispose solennemente il signor Liliwick come vi sembra? bisbigliò il riscossore traendolo da parte come vi sembra l'aspetto di lei stasera più bello che mai rispose Nicola dando un'occhiata all'ex signorina Pitauker bene c'è un'aria intorno a lei caro rispose il riscossore che non ho visto in nessun'altra guardatela ora che mette su il caldaino del tè guardatela non è un incanto caro? voi siete un uomo fortunato disse Nicola soggiunse il riscossore no forse credete che io sia fortunato può darsi può darsi dico che non avrei potuto far meglio se fossi stato giovane e non avrei neanche voi avreste potuto far meglio neanche voi con queste espressioni e altre tali il signor Liliwick urtò col gomito il fianco di Nicola e gorgogliò finché la faccia gli si fece violetta nello sforzo di reprimere la propria soddisfazione intanto era stata messa la tovaglia sotto la sovraintendenza alleata di tutte le donne al di sopra di due tavole riunite l'una alta e stretta l'altra bassa e larga erano delle ostriche a un capo delle salsicce in fondo uno smoccolatoio nel centro e delle patate infornate dove era parso conveniente metterle due sedie in più erano state pigliate dalla camera dal letto la signorina Snevellicci sedeva a capotavola e il signor Liliwick in fondo e Nicola ebbe non soltanto l'onore di sedere accanto alla signorina Snevellicci ma di avere a destra la mamma della signorina Snevellicci e di fronte il papà della signorina Snevellicci insomma egli fu l'eroe del festino e quando la tavola fu sgombrata e servito qualche cosa di caldo il papà della signorina Snevellicci si levò e fece un brindisi alla salute di Nicola con un discorso che conteneva tali allusioni alla sua imminente partenza che la signorina Snevellicci pianse e fu costretta a rifugiarsi nella camera dal letto zitti non ci badate disse la signorina Ledruc affacciandosi dalla camera dal letto dite quando lei ritorna che si stanca troppo la signorina Ledruc allungò questa raccomandazione con tanti cenni misteriosi e aggrottamenti di sopracciglia prima di rinchiudere la porta che si fece un profondo silenzio fra gli astanti e il papà della signorina Snevellicci apparve davvero molto grosso parecchie volte maggiore del vero nell'atto che guardava ciascuno a turno ma specialmente Nicola mentre continuava a vuotare e a riempirsi il bicchiere finché non tornarono le donne in gruppo tenendo in mezzo la signorina Snevellicci non è necessario impensierirvi signor Snevellicci disse la signora Lillewick si sente soltanto un po' debole e un po' nervosa è in questo stato fin da stamane ah disse il signor Snevellicci si tratta soltanto di questo ah si soltanto di questo non state a credere chissà che cosa esclamarono tutte le donne insieme una risposta simile non era adatta all'importanza del signor Snevellicci quale uomo e quale padre così egli si volse alla disgraziata signora Snevellicci e le chiese che diamine intendesse col parlare in quella maniera ahimè mio caro disse la signora Snevellicci per piacere non mi chiamate caro disse il signor Snevellicci prego papà non interruppe la signorina Snevellicci non che cosa figlia mia non parlare in quella maniera perché no disse il signor Snevellicci spero non supporrete che vi sia qualcuno che possa impedirmi di parlare come voglio nessuno papà soggiunse la figlia nessuno potrebbe anche volendo disse il signor Snevellicci io non mi vergogno io sono Snevellicci quando mi trovo a Londra mi si può vedere in Broad Court Bow Street se non sono in casa si può domandare di me alla porta del palcoscenico per l'inferno credo che mi conoscano alla porta del palcoscenico tutti hanno visto il mio ritratto dal tabaccaio della cantonata sono stato nominato nei giornali tante e tante volte no parlare sapete che vi dico se trovassi qualcuno che avesse scherzato con i sentimenti di mia figlia non parlerei lo stordirei senza parlare questa è la mia maniera dicendo così il signor Snevellicci batte la palma sinistra con tre forti pugni torse un naso immaginario col pollice e l'indice della destra e tracannò un altro bicchiere in un fiato questa è la mia maniera ripete il signor Snevellicci molti grandi personaggi pubblici hanno i loro difetti e la verità è che il signor Snevellicci era un po' devoto a Bacco anzi se si deve dire tutta la verità era di rado sobrio egli conosceva bevendo tre fasi distinte di ubriachezza la dignitosa la litigiosa l'amorosa quando era teatralmente occupato non sorpassava mai la dignitosa ma nei ritrovi privati le percorreva tutte e tre passando dall'una all'altra con una rapidità di movimenti piuttosto sconcertante per quelli che non avevano l'onore della sua conoscenza così il signor Snevellicci ebbe appena tracannato un altro bicchiere che sorrise a tutti gli astanti nel felice oblio di quei suoi indizi di animosità pugnace e brindò alle donne che Dio le benedica in maniera vivacissima io le amo disse il signor Snevellicci guardando in giro io le amo tutte quante non tutte ragionò con mitezza il signor Liliwig sì tutte ripeté il signor Snevellicci sarebbero comprese sapete anche le maritate sapete anche le maritate disse il signor Liliwig io le amo tutte caro disse il signor Snevellicci il riscossore guardò i visi circostanti con un aspetto di grave stupore come se dicesse che bel tomo e apparve alquanto sorpreso che i modi della moglie non mostrassero alcuna traccia di indignazione e d'orrore all'amore si risponde con l'amore disse il signor Snevellicci io le amo tutte e tutte amano me e come se questa dichiarazione non fosse fatta con sufficiente disprezzo e sfida di tutti i doveri morali che fece il signor Snevellicci strizzò l'occhio strizzò l'occhio chiaramente e manifestamente strizzò l'occhio a Enrichetta Liliwig nell'intensità del suo stupore il riscossore si abbandonò sulla spalliera della poltrona se qualcuno avesse strizzato l'occhio alla donna come Enrichetta Pitauker sarebbe stato indicibilmente indecoroso ma a lei quale signora Liliwig mentre egli sudava freddo pensando a questo e si domandava se sognasse o fosse desto il signor Snevellicci ripete la strizzatina e bevendo la signora Liliwig con gesti di pantomima le mandò positivamente un bacio con un soffio sulla mano il signor Liliwig si levò dalla poltrona si diresse ad un tratto all'altra estremità della tavola e s'abbatté su di lui letteralmente s'abbatté su di lui all'istante il signor Liliwig non era leggero e per conseguenza quando s'abbatté sul signor Snevellicci il signor Snevellicci andò a finire sotto la tavola il signor Liliwig lo seguì e le donne si misero a urlare che hanno quei due sono matti esclamò Nicola correndo a incurvarsi sotto la tavola traendone il riscossore a viva forza e gettandolo piegato in due su una sedia come se fosse stato un fantoccio di paglia che vi piglia che volete fare che avete mentre Nicola sollevava il riscossore Smaik aveva fatto la stessa cosa col signor Snevellicci che si mise a guardare l'avversario con stupore di Ebro guardate qui caro rispose il signor Liliwig indicando la moglie attonita guardate qui un essere di purezza e di eleganza i cui sentimenti sono stati oltraggiati violati caro signore Dio quante sciocchezze dice esclamò la signora Liliwig rispondendo allo sguardo interrogativo di Nicola nessuno mi ha detto nulla nulla Enrichetta esclamò il riscossore non l'ho visto forse il signor Liliwig non ebbe la forza di pronunciare la parola ma imitò il movimento dell'occhio bene esclamò la signora Liliwig credete che nessuno debba guardarmi mai se questa fosse la legge sarebbe proprio una bella cosa essere maritata tu non ci hai fatto caso esclamò il riscossore non ci ho badato ripete la signora Liliwig sprezzante tu dovresti chiedere in ginocchio perdono a tutti ecco che dico chiedere perdono cara disse il riscossore confuso sì e prima a me rispose la signora Liliwig credi che io non sia in grado di capire ciò che è conveniente o sconveniente certo esclamarono tutte le donne credete che non saremmo le prime noi a parlare se vi fosse qualche cosa da rilevare credete che esse non lo sappiano signore disse il papà della signorina Snevellicci accomodandosi il colletto e mormorando che avrebbe pigliato a pugni qualcuno se non fosse stato trattenuto dalla considerazione dell'età e intanto il papà della signorina Snevellicci guardò con fermezza e austerità per alcuni secondi il signor Liliwig e poi levandosi risolutamente dalla sedia si mise a baciare in giro le donne cominciando dalla signora Liliwig l'infelice riscossore guardò malinconicamente la moglie come per vedere se fosse rimasto in lei qualche tratto della signorina Pitauker e trovando purtroppo che non c'era domandò perdono a tutta la compagnia con grande umiltà e tornò con la coda fra le gambe a sedere e così scoraggiato e deluso che egli nonostante tutto il suo egoismo e il suo rimbambimento formava veramente uno spettacolo pietoso il papà della signorina Snevellicci tutto giubilante per quel trionfo e per la prova incontestabile della sua popolarità col bel sesso diventò rapidamente festoso per non dire rumoroso e cantò volontariamente più d'un'aria di una certa lunghezza regalando agli amici fra gli intervalli i suoi ricordi di varie splendide donne che se era creduto si erano innamorate di lui e brindò a parecchie dicendone il nome e osservando nello stesso tempo che se avesse saputo far meglio i propri interessi lui sarebbe andato in giro in una vettura a quattro cavalli parve che queste memorie non destassero molte angosciose torture nel petto della signora Snevellicci che era abbastanza occupata nel commentare a Nicola i molteplici pregi e meriti della figliuola né la stessa signorina rimase indietro nello sfoggiare le più belle attrattive che la dornavano ma queste per quanto fatte risaltare dagli artifici della signorina Ledruc non ebbero alcun effetto nella crescere le attenzioni di Nicola il quale col precedente della signorina Squiers ancor fresco nella memoria resiste con fermezza a ogni fascino e si tenne così rigorosamente in guardia che dopo che si fu congedato fu dichiarato un mostro di insensibilità per parere unanime di tutte le donne il giorno dopo apparvero puntualmente i manifesti e il pubblico fu informato con tutti i colori dell'arcobaleno e con lettere afflitte da ogni possibile deviazione della spina dorsale come qualmente il signor Johnson avrebbe avuto l'onore di dar quella sera l'ultima sua recita e come qualmente bisognasse affrettarsi nella richiesta dei biglietti data la straordinaria affluenza di spettatori alle sue rappresentazioni già che è un fatto notevole nella storia del teatro e già da lungo tempo acquisito senza alcuna contestazione che è molto difficile attrarvi gente se prima non le si fa credere che non ci sarà modo di entrare Nicola fu alquanto imbarazzato la sera entrando nel teatro nel giustificare l'insolita agitazione ed eccitazione dipinta nelle fisionomie di tutti gli attori ma non rimase a lungo in dubbio sul motivo perché prima che domandasse nulla gli si avvicinò il signor Crammels e lui informò con voce affannata che nei palchi c'era un impresario londinese certo per il prodigio caro disse Crammels traendo Nicola al buco del sipario per mostrargli l'impresario londinese io non ho il minimo dubbio che sia qui per la fama del prodigio eccolo lì quello col soprabitone senza il colletto alla camicia la mia bambina si piglierà 10 sterline la settimana Johnson neanche per un centesimo di meno si presenterà alle ribalte di Londra e neppure verrà scritturata se non verrà scritturata mia moglie 20 sterline la settimana per tutte e due anzi sapete che vi dico mi scritturerò anch'io coi due ragazzi e ne avremo 30 fra tutti non posso essere più equo di così ci si deve prendere tutti se no nessuno di noi accetta senza gli altri questo è il metodo di molti a Londra e riesce sempre 30 sterline alla settimana è un gran buon mercato Johnson è un incredibile buon mercato Nicola rispose che certo era incredibile e il signor Vincenzo Krammels annusando molte grosse prese di tabacco per ricomporsi corse a dire alla signora Krammels di aver stabilito le uniche condizioni accettabili decidendo di non ridurle neppure ad un centesimo dopo che tutti furono vestiti e si levò il sipario l'eccitazione cagionata dalla presenza dell'impresario londinese aumentò indicibilmente ciascuno degli attori riteneva che l'impresario londinese fosse andato per veder recitar lui e ciascuno era in grande attesa e ansia quelli che non si presentavano nelle prime scene si misero in agguato presso le quinte e di lì sporgevano il collo per dare un'occhiata all'impresario altri si recarono di soppiatto nei due palchetti sulle porte del palcoscenico e da quell'osservatorio fecero la ricognizione dell'impresario londinese una volta l'impresario fu visto sorridere sorrise al contadino buffo che fingeva ad acchiappare un moscone mentre la signora Krammels mirava al suo migliore effetto benissimo il mio uomo pensò il signor Krammels scuotendo il pugno verso il contadino buffo uscito dalla scena sabato prossimo lascerai la compagnia nello stesso modo quanti erano sul palcoscenico non guardavano la platea ma un'unica persona e tutti rappresentavano per l'impresario londinese quando il signor Lenville in un improvviso scoppio di collera chiamò Fellone l'imperatore e poi si morse il guanto dicendo ma io debbo fingere invece di guardare tristamente le tavole del palcoscenico e aspettare la battuta come è bene in casi simili tenne gli occhi fissati sull'impresario londinese quando la signorina Bravassa cantò un'aria al suo innamorato che secondo il costume era lì ritto e pronto a stringerle la mano negli intervalli delle strofe essi non si guardarono a vicenda ma guardarono l'impresario londinese il signor Krammels morì positivamente per lui e quando entrarono le due guardie per prenderne dopo una molto terribile morte il cadavere fu visto che apriva gli occhi a guardare l'impresario londinese infine si scoperse che l'impresario londinese dormiva e poco dopo che si era svegliato e se n'era andato e allora tutta la compagnia si scagliò contro il contadino buffo dichiarando che la sua buffoneria n'era stata l'unica causa e il signor Krammels gli disse che l'aveva sopportato per lungo tempo ma che in realtà non aveva la forza di resistere più e che perciò gli sarebbe assai grato se si fosse cercato un'altra scrittura tutto questo divertì molto Nicola il cui solo sentimento al riguardo fu di sincera soddisfazione per il fatto che il gran duomo se n'era andato prima che egli apparisse in scena rappresentò la sua parte nei due ultimi lavori meglio che potè ed avendo avuto una calda accoglienza e dagli applausi strepitosi così dicevano i manifesti per il giorno dopo che erano stati stampati un paio d'ore prima si prese Smyke a braccetto e se ne andò a casa a letto la mattina appresso arrivò con la posta una lettera di Newman Knox molto scarabocchiata molto corta molto sudicia molto breve molto misteriosa che sollecitava Nicola a tornare immediatamente a Londra e a non perdere un solo momento per arrivare la sera possibilmente subito disse Nicola il cielo sa che sono rimasto qui a fin di bene e disgraziatamente contro la mia stessa volontà ma forse ho indugiato troppo che cosa sarà accaduto Smyke mio buon amico ecco prendi questo borsellino metti insieme le nostre carabattole e paga tutti i debiti che abbiamo presto e faremo in tempo per la diligenza di stamane vado per dire che ce ne andiamo e sarò subito di ritorno così dicendo prese il cappello e correndo in casa del signor Crammels applicò la mano al battente con tanta buona volontà che svegliò quel galantuomo ancora a letto e fece al pilota signor Balf nella vivezza della sorpresa quasi toglier di bocca la pipa della fumatina mattutina dopo che la porta fu aperta Nicola si mise a correre su per le scale senza cerimonie e irrompendo nella penombra del salotto trovò che i due signorini Crammels erano saltati dall'ottomana al letto e si stavano rapidamente vestendo con l'impressione di essere ancora nel cuore della notte e che la casa attigua fosse in preda a un incendio prima che egli potesse disingannarli il signor Crammels discese in una veste da camera di flanella e berretto da notte e a lui Nicola spiegò brevemente le circostanze che rendevano necessaria la sua partenza immediata per Londra così addio disse Nicola addio addio egli era già a metà delle scale prima che il signor Crammels si fosse sufficientemente rimesso dalla sorpresa e potesse balbettare qualche cosa intorno ai manifesti che ci posso fare rispose Nicola pigliatevi per compensarvi dei manifesti tutto ciò che posso aver guadagnato questa settimana e se non basta ditemi quanto volete presto presto per questo ci dichiareremo pari rispose Crammels ma non possiamo avere un'altra serata non un'ora non un minuto rispose Nicola con impazienza non volete fermarvi a dire qualche cosa a mia moglie chiese il direttore seguendolo giù fino alla porta non mi fermerei neanche se mi prolungassi la vita ad una dozzina d'anni soggiunse Nicola ecco qua la mano e con i miei ringraziamenti cordiali ah esser rimasto a trasturlarmi qui accompagnando queste parole con un'impaziente pestata al pavimento egli si divincolò dalla stretta tenace dell'impresario e slanciandosi velocemente giù per la via dopo un istante non si vide più ahimè ahimè disse il signor crummles guardando malinconicamente verso il punto d'onde Nicola era appena scomparso solo se rappresentasse a questo modo quanto denaro farebbe egli avrebbe fatto fruttare bene il nostro giro e mi sarebbe stato utilissimo ma non conosce il suo bene è un giovane precipitoso i giovani sono molto imprudenti molto imprudenti il signor crummles si sentiva disposto a filosofare e avrebbe forse filosofato ancora per alcuni minuti se non avesse automaticamente messo la mano alla tasca della sottoveste dove era solito di tenere la tabacchiera ma all'assenza di una qualsiasi tasca nel punto solito a un tratto gli richiamò a mente che non aveva addosso la sottoveste e condotto da questo alla contemplazione della scarsezza della propria acconciatura chiuse di scatto la porta per ritirarsi su per le scale in gran fretta Smike si era dato da fare durante l'assenza di Nicola e col suo aiuto tutto fu subito pronto per la loro partenza si indugiarono appena a prendere un boccone di colazione e in meno di mezz'ora arrivarono all'ufficio della diligenza col fiato grosso per la corsa fatta per giungere a tempo verano ancora pochi minuti di attesa e così dopo essersi assicurati i posti Nicola corse in un negozio vicino e comprò a Smike un soprabito sarebbe stato piuttosto largo per un bel pezzo d'uomo massiccio ma il negoziante dichiarò e con notevole verità che esso era straordinariamente adatto e Nicola lo avrebbe comprato nella sua impazienza anche se fosse stato grande il doppio correndo in quel momento verso la diligenza che era già nella strada e pronta per la partenza Nicola non fu poco sorpreso di trovarsi improvvisamente stretto in un violento e vigoroso abbraccio che mancò poco lo soffocasse né il suo stupore fu diminuito dall'udir la voce del signor Crammels esclamare è lui l'amico mio l'amico mio che Dio vi benedica esclamò Nicola divincolandosi nelle braccia del direttore come mai qui il direttore non rispose ma se lo strinse di nuovo al petto esclamando intanto addio mio nobile e sincero amico infatti il signor Crammels che non perdeva mai l'occasione di uno sfoggio teatrale era uscito col preciso proposito di dare pubblicamente il suo addio a Nicola e per renderlo più solenne egli con indicibile fastidio del giovane l'oppresse con una rapida successione di amplessi professionali i quali come tutti sanno sono eseguiti da colui che abbraccia col mettere il mento sulla spalla dell'oggetto della simpatia e guardare lontano e il signor Crammels esegui la cerimonia nel più alto stile melodrammatico declamando nello stesso tempo le più lugubri formule d'addio estratte dai lavori del suo repertorio ne fu tutto perché il maggiore dei ragazzi Crammels compieva la stessa cerimonia con Smyke mentre il signorino Percy Crammels con una mantellina di pelo comprata di seconda mano e drappeggiata teatralmente sulla spalla sinistra se ne stava lì irrito nell'atteggiamento ad una guardia che aspettasse di condurre le due vittime al patibolo gli spettatori risero cordialmente e Nicola per far buon viso a cattivo gioco rise anche lui quando riuscì a liberarsi e appena compiuto il salvataggio di Smyke sballordito si arrampicò sull'imperiale della diligenza e mentre partivano si baciò la mano in onore della signora Crammels ascend di Smyke di Smyke di Smyke di Smyke di Smyke di Smyke